Il leader del carroccio parla poi dell'ipotesi Berlusconi al Quirinale e commenta le dichiarazioni di Conte che chiede un governo di salvezza nazionale. Fanta politica, i soldi a prestito del recovery plan. Da restituire con gli interessi? Sono due terzi dell'ammontare. Non li prenderei perché li posso chiedere al mercato a tassi migliori. Così il leader della Lega. Matteo Salvini. Su di martedì sulla 7. Sempre nel corso della trasmissione il capo del carroccio ha poi parlato a tutto tondo. Su Silvio Berlusconi sostenendo che, è curioso che se viene proposto da Salvini al Quirinale, Berlusconi diventa un delinquente. Peggio di Totori Ina. Mentre se serve una stampella per Conte allora è uno statista, ma anche sulle parole dello stesso presidente del Consiglio che ha richiamato, in un post su Facebook, alla necessità di un governo di salvezza nazionale dopo le sue dimissioni. Su questo punto Salvini commenta. Se ci permettono di fare il taglio delle tasse al 15%, se non toccano quota 100 e non ci riportano alla Fornero, se sbloccano cantieri fermi e mettono sotto controllo l'immigrazione io sono contento. Allora parliamone. Ma stiamo parlando di fantapolitica. Mi ci vedete a governare con Renzi e Zingaretti? Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti